Un emendamento che prevede la proroga fino a luglio, dando quindi 5 mesi in più ai termini per la mappatura delle concessioni demaniali per gli stabilimenti, bloccando al contempo le gare, ma anche la proroga per le concessioni in essere per un anno, fino al 31 dicembre 2024, e l'istituzione alla presidenza del Consiglio, e non più al MIT, di un tavolo tecnico con compiti consultivi in materia. Le commissioni bilancio e affari costituzionali del Senato hanno dato l'ok a tre emendamenti al DL 1000 proroghe sulle concessioni demaniali marittime. Un provvedimento attesissimo per l'economia delle regioni a vocazione turistica balneare, Sardegna inclusa, che di fatto congela per il momento il nodo balneari. Il rischio per le 1200 microaziende del settore nell'isola era che, secondo le disposizioni della riforma nazionale voluta dall'Unione Europea, a partire dal 2024 potessero essere spazzate via dalla concorrenza delle multinazionali, perdendo l'indotto creato da un comparto strategico per il turismo quanto per l'intera economia regionale. L'interesse nei confronti dell'avvertenza è sempre stato alto da parte della regione Sardegna, che già lo scorso anno aveva impugnato l'avvertenza del Consiglio di Stato. L'ultimo intervento in ordine cronologico è stato l'incontro, tenutosi a Cagliari lo scorso 18 gennaio, tra l'assessore agli enti locali Aldo Salaris e i rappresentanti delle associazioni dei balneari. Un vertice finalizzato a predisporre le direttive per la stagione 2023, le linee guida per un piano di utilizzo dei litorali e per iniziare a ragionare su un documento condiviso da portare al governo prima della scadenza prevista per le concessioni, scadenza che adesso, grazie al mille proroghe, è stata rimandata.